Il fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, i vigili del fuoco di Ivrea e i carabinieri di Quornier. L'uomo, titolare di una ditta di forno, cosciente, è rimasto bloccato nell'abitacolo del mezzo ed è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari, che l'hanno trasportato all'ospedale di Ivrea. Non è in pericolo di vita. La strada è stata bloccata al traffico per poter permettere l'operazione di soccorso e rimozione del mezzo. La strada è stata bloccata.